Noi abbiamo girato altri due film di questa avventura. Devo dire che mi sono molto sorpreso perché la bellezza di queste... Mi sono sorpreso e non è facile sorprendersi dopo tanti anni che uno lavora su una materia che è quella del commissario Montalbano, dei romanzi di Andrea Camilleri, però qui mi sono molto sorpreso perché quest'anno credo che ci siano riusciti molto bene, c'è il giusto mix di drammaticità, di cose che fanno sorridere, di comicità, di commedia, insomma mi sembra che siano venuti molto bene. Cadere, birduzzo, birduzzo, vaffanculo. Anzi, forse la ragione che ci sono venuti così bene è che quest'anno parlano proprio d'amore. In un momento così difficile che stiamo attraversando, la crisi economica che ci morde ai volpacci, ai me da ormai troppi anni, il fatto di quello che sta succedendo intorno a noi, nel mondo, che ci mette un'ansia terribile, sottolineare che poi c'è un potere salvifico, che è quello dell'amore, in tutte le sue declinazioni, perché una delle storie che raccontiamo d'amore è anche una storia di amore sbagliato, però insomma diciamo che la salvezza è nell'amore in tutte le sue declinazioni e soprattutto anche nella nostra capacità, tutto sommato poi, di amare il nostro prossimo, come ci ha insegnato qualcuno. Che c'è? Non mi sembra il nostro caso, sai? Ma perché? Non lo so, così. Ma che significa così? Così, 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 ad istinto. Ma che significa istinto? Ma tu le indagini le fai istinto? Fatti, prove, verifiche, riscontro, queste parole per te hanno un senso. Ma che c'è? Ma è certo che hanno un senso, cioè, è solo che l'istinto, lo sai che mi fa innervosire, mi fa innervosire, mi fa innervosire, adesso devo andare, scusami, buonanotte, ci sentiamo domani, ciao. Quando io ho cominciato a fare Salvo Montalbano c'erano 36, quindi adesso ce n'ho qualcuno in più. In questi anni il personaggio è cambiato perché è cambiato il personaggio letterario di Andrea Camilleri. Come tutti i giallisti di razza, attraverso i gialli si raccontano degli episodi, ma si racconta anche il paese in cui questi episodi avvengono. Chiedemi scusa. Scusa. Ah. Certo che con l'età diventi per malosetto. Eh, ognuno ha difetti suoi. Sì, ma con l'età si è peggiorato. Che devo fare? Devo riattaccare? Buonanotte, Salvo. Buonanotte, amore. Ecco, il nostro paese in tutti questi anni è cambiato, i problemi sono cambiati, forse sono aumentati, forse sono diminuiti, ma insomma diciamo che il personaggio, oltre ad invecchiare, ovviamente, da un punto di vista di età, anagrafica, si trova anche a dover fare conti con una società che è cambiata profondamente. Ma anche con un essere umano che è cambiato proprio da un punto di vista antropologico. Ma se il rapitore di picciotte avesse utilizzato proprio quella di macchina? E tu che hai fatto? Ho chiamato la scientifica, ho aspettato che arrivassero e me ne sono tornato qua. Oggi pomeriggio mi fanno sapere. Mimì, tu lo sai quanto mi costa dirti quello che ti sto per dire. Cioè non di meno, io ti devo dire bravo, sei stato bravo e io... No, 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 Salvo, Salvo, ti prego, fermati qua, non ti sforzare se mai ti venisse un'ernia. Ma io credo che il segreto per piacere del mondo, diceva una persona, una grande sceneggiatrice che si chiama Suso Cecchi d'Amico, è che se tu vuoi fare una marmellata che piace in tutto il mondo, la devi fare come la faceva tua nonna nel paesino di 30 anime. Perché? Perché diventerà quella marmellata che la gente vorrà. Perché se fai una marmellata fatta per tutti è difficile che riuscirai a vendere. Invece ci avrai delle persone che ameranno quella marmellata e delle persone che non la potranno sopportare. Ma quelli che la ameranno saranno dei possibili e potenziali compratori in tutto il mondo. Questa è... il nostro è un prodotto di un autore che racconta storie, archetipi di una cultura forte e importante come quella siciliana. ha costruito questo personaggio straordinario per tanti aspetti e quindi viene quasi da sé il fatto che una cosa così regionalizzata, così identificata con un punto geografico della cartina, in qualche modo poi piaccia a tutti quanti. Capito? Sto arrivando. Ma che è stamattina? Giovedì. Eh? Giovedì. Dove di che? Lei ha detto cosa è stamattina? Giovedì. No, ma io dicevo che... Lasciamo stare. Lasciamo stare. Un buon motivo per guardare questi due episodi di Montalbano è perché ci sto io. Eh 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 eh.